ok salve a tutti benvenuti in una puntata di questa serie su MLB The Show con i nostri Washington Nationals ho dato l'accortezza di una cosa purtroppo una partita ce la siamo persa in certo senso come serie per motivi tecnici vi spiego io ho giocato una partita contro contro New York Mets al momento di controllarlo a fare alcuni ingiustamenti dal punto di vista del montaggio mi sono accorto che mancava l'audio del mio microfono e quindi vedevate giocare sentivate l'audio della partita ma a me mi vedevate ma mi vedevate in modalità pesce rosso nell'acquario e parlavo non ne mettevo voce e purtroppo non ho non le con registrazioni non sono in grado di tornare indietro a questa partita a rigiocarla quindi è persa posso soltanto darvi accortezza di quello che è stato il risultato questa partita che è stata una vittoria per 9 a 5 una partita che non è iniziata benissimo era iniziata con due punti loro letteralmente ragazzi di questi cinque punti almeno tre gliele abbiamo regalati noi due punti regalati al secondo inning con un liscio clamoroso una ricezione lisciata mena clamorosa da parte di un mio ricevitore cioè lui la palla praticamente ce l'aveva così ci stava andando per prenderla al volo gli è passata tipo accanto al braccio e poi lui è inciampato e caduto la palla si è diventata così lontana 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 comunque nonostante questo poi l'abbiamo in qualche modo recuperata mentre intanto avvio la partita piano piano l'abbiamo recuperata l'abbiamo poi messa in ghiaccio poi fortuna abbastanza presto tant'è che gli ultimi credo due inning si ho potuto utilizzare il voto con lanciatore non c'è una partita quello principale che iniziato è stata folty nevis che ha lanciato anche abbastanza bene ha fatto una serie di strike auto non ha fatto non ha fatto danni ecco non ha fatto anni non ha concesso tanto e ripeto quei punti regali sono stati più che altro opera del intanto lanciatore che già golli ok beh facciamo automatico ok mi dicevo tutti i regali sono stati regalati come al solito dalla dai nostri ricevitori che ogni tanto gli pigliano gli sgribizi cose strane lisciano palle gli scappa dalle marie delle robe sono mancose che abbiamo visto finora di quello che di fatto è sempre stato in un punto debole della della squadra che la fase di ricezione ora vinta quella purtroppo hanno vinto anche i tintinati reds la scorsa partita tratto contro un avversario forte che non mi non era comunque l'avversario più forte che aveva nel loro calendario e che è preoccupante chi che è abbastanza preoccupante c'è quando io giocavo con i chicago caps che hanno 87 vittoria una serie comunque una squadra forte se battono poi i chicago caps è dura comunque robles secondo robles va bene orca niente 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 e quindi è set lugo set lugo il lanciatore loro set lugo ii eun boce ok due 1 Vediamo se Avendo pazienza Con calma riusciamo in qualche modo a Prendere la quadra Con questo lanciatore Maledetto 2-2 Porca miseria Vabbè 2-2 Con calma Con calma Ok Va bene Meno male che l'ho presa Sempre 2-2 Facciamo lanciare il più possibile Ehm Fa Va bene Fa niente Fa niente Veri early addirittura Va bene 2-2 Comunque facciamo lanciare Questo più lancia meglio è Più lancia meglio è E la miseria Io per un diritto Stato alle vetta giù però E che caspita Vabbè E niente Secondo eliminato Secondo eliminato E adesso sotto Sotto Vai sotto Ok 1-0 Va bene Va bene Vai sotto Ah Dai Mi ha portato a prendere il volo No Non l'ha presa il volo Ti ha rimbalzato davanti Va bene Va bene Dai Valida È una valida Va bene Un turno in più Fa un turno in più Ribattiti di lancio In questo inning Bene così Facciamo stancare il più possibile Ora voi Vabbè 1-1 Ok Scusate un attimo Ho dovuto interrompere un attimo Perché ho visto il programma di registrazione Che Che stava dando un po' di matto Io controllo adesso Un po' di cose con voi Bene L'audio funziona Tutto Perfetto C'è un suggerimento C'è un suggerimento Crackle Chuffle Ci suggeriscono Chuffle Bene 0-2 E basta Sono finiti i suggerimenti Va bene Sinker Un sink e pill Ci riesce un sink e pill Sink e pill Benissimo Primo eliminato Ok Ora Cutter Cutter alto Non lo so Bravo Grazie Cioè Va bene Ora Change up Un po' più così Change up Bene 0-2 E poi Un knuckle chaffo Knuckle chaffo Knuckle chaffo Benissimo Secondo eliminato Va bene Va bene Dai Ora Cutter Proviamo una cutter Così Filo filo Cutter un po' Filo filo Va bene 0-1 Dai Poi Change up Un po' così Change up Perfetto Grande E un'altra cutter Qua Avrebbe girato la palla Avrebbe girato la mazza Veramente Segui il notazzo Però va bene 1-2 Va bene Ok E qua Foul Foul Non diciamo stronzate Foul Allora Ok Cut Un po' più centrale Cutter Tranquillo Ok Benissimo Terzo eliminato Direi Si chiude qua Linica In questa maniera Il tutto Sembra Reggere Scusate Un po' di problemi tecnici Ma va bene Comunque Thames Thames Avanti Vabbè 0-1 Era comunque In zona di strike Ho fatto comunque bene a prenderlo 0-1 Ok 1-1 Va bene Con la calma Con la calma Con la calma Eh che calma Ogni volta questa Mi sembra sempre Palle potente Diretta Al centro Invece Invece 1-2 Niente Eh vabbè Fatto Eh vabbè Primo o secondo eliminato È un primo o un secondo È un primo eliminato Va bene Starling Castro Starling Castro Andiamo un po' Un po' No 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 Perché ho premuto Scemo Perché ho premuto 0-1 0-1 Ok Ok Devo avere pazienza Devo avere pazienza 0-2 Ah 1-2 Va bene Ok Vabbè Niente Io non lo capisco Vabbè Secondo eliminato Morpheus Morpheus Avanti E Momento tu Momento tu Attiva il Matrix Morpheus Ball Mi sembrava molto più ball Ma ok 1-0 Dai Va bene Ok Ball va bene 2-0 2-0 2-0 Dai 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 Presa Mi sa che la prende a volo quello Si Eh vabbè Niente Terzo eliminato Terzo eliminato Finisce con il secondo inning Fase di battuta Adesso c'è la fase di lancio E Qua il problema Comunque Vabbè Vabbè Cracco Chaffo Chaffola Va bene Va bene 0-2 Ehm Sinker Sinker facciamo così Un bello sinko Oh Prima eliminato benissimo Bene così dai Ora Ciaffolo adesso ciaffolo Adesso ciaffolo No Non ha ciaffolato bene Quindi sinker pill Tirai su sinker Sinker benissimo 1-1 Poi 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 cut Cut proviamo alta Proviamo alta Bravo 1-2 Bravo again Di nuovo rifallo Rifallo che mi è piaciuto Rifallo che mi è piaciuto Non mi sta andando Perché se ne stava andando via Ricevitore Vabbè stai contenuto meno male Allora io direi Cutterò qua Cutterò Questa è la strike Comunque Io vorrei dire una strike Vabbè 1-0 1-1 Ok Cutterò un po' più di qua Foul 2-1 1-2 Va bene Eeeh Ciaffoli Ciaffola 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 Benissimo Fettifbrighi Oh Terzo animale A posto E' un limitato I banni Bene Ok Ok Gomes Vai Gomes Vai Gomes Vai Gomes Vai Gomes Naaaa 1-0-1 Vabbè Calma Oh me sembrava centrale 0-2 Vabbè Va bene 1-0 Ok 1-2 Devo farlo lanciare Prima o poi Arriverà a stancarsi Dai Vai E' sì Ciao Mi ha eliminato Vabbè Cutterò Vabbè A posto siamo Vabbè Qua solo sperare Che ce la regalino In qualche maniera Eeeh Vabbè 0-1 E vabbè Ok Sì però I luoghi Ma almeno La mazza Te l'hanno data Te l'hanno data Buona O eolografica C'è Vabbè Ok 1-2 Ok Va bene Va bene Calma 2-2 Ok Va bene Ok Calma Pre Eeeh Ciao Cosa fa Secondo eliminato Non l'aspettavo E ricomincia il giro Turner Simple e best Per favore Simple e best Per favore Eh Eeeh Vabbè Questi c'hanno una fase di ricezione Gli funziona bene C'hanno una fase di ricezione Gli funziona bene E questo potrebbe essere un problema Perché se gli funziona bene la fase di ricezione Noi appunto non lo facciamo manco per sbaglio Vabbò 1-1-0 Godley Vabbè 1-1 Va benissimo Sinker Vai Godley 1-2 Va benissimo Eeeh Cutter Cutter qua Cutter qua Ho capito Questo Vabbè Ciaffolo Va bene Ciaffola Ciaffola Dai Ok Prima eliminato Dai Apposto così Apposto così Apposto così Apposto così Toh Di qua in alto Così Proviamola Proviamola 0-1 Va benissimo Ora Io ho un sinker Facciamo un sinker qua Eeeh Ecco Preciso Ce la fai Sereno A posto Secondo eliminato Dai 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 Poi Allora io direi Change up Questo è il loro lanciatore Quindi dovrebbe Non dovrebbe Teoricamente Teoricamente Sempre In pura teoria Non dovrebbe essere Eccessivamente complicato Eliminarlo Tipo No Ecco Terzo eliminato A posto così Terzo inning Sempre 0-0 Continuiamo Non si muove nulla Eeeh Bu Non puoi Veroce Curva Slider Change up Vabbè Ok Calma Eeeh Niente Subito eh Loro Subito Palla subito La danno alla base I miei fanno i passettini Vabbè Soto 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 Fai sotto Iiii Oddio 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 Va bene Erli addirittura Soto Vol 1-2 Ok Va bene Bene 2-2 Ok Ok Ui Si sta già abbastanza stancando Eh Sarebbe al quarto inning L'orca miseria Sempre 2-2 Era ball però Una sola ha tirato in zona di strike Tutte queste però Almeno con lui Questo Turno di battuta Vabbè Niente Ciao L'altro eliminato Secondo eliminato E adesso Dominic E adesso Dominic Ah boh Vabbè Dominic Bolla Ok 1-0 Dai 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 Dominic Dai Arca bambina 1-1 Vabbè Vai Dominic Ok E vabbè E vabbè È una battuta Una battuta pulita Non riusciamo a farla Quindi E niente Eeeh Sempre così E adesso Cut Godway Beh 0-1 Eeeh Sinker qua Va bene 0-2 Va benissimo Eeeh Allora Non c'haffola 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 Perfetto Primo eliminato Primo eliminato Poi Catteralta qua Lo facciamo Lo facciamo Bravo 0-1 Benissimo Ora Una ciaffola qui Ciaffola Ciaffola Benissimo Ha girato la mazza 0-2 E un catterino Qui Di spigolo Catterino di spigolo Catterino di spigolo Va bene Eeeh Zinker Di spigolo Zinker di spigolo Zinker di spigolo alleged Va bene Tutta ce la fai Ce la fai Sereno Serenamente Serenamente tua A posto Sano eliminato Dai Bene così Bene Così Allora Cut Una volta Iniziamo con Cutter basso Ok Terzo Meno male dai 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 Comunque 4 inning sempre 0-0 Andiamo avanti così Non è successo granché finora Partita ostica Soprattutto Cioè partita ostica Un equilibrio Molto Sottile molto rapidamente Da un momento all'alto può C'era qualcosa Eric Era Pollo Niente 0-1 va bene dai Va bene Va bene Presa Niente oggi in ricezione sono loro Sono un orologio svizzero Non ne mancano una Non ne mancano una E niente Primo eliminato Ball ok 1-0 Va bene Va bene Ok Prendi in più a fauna Ho fatto bene a prendere Ma mi è andata in fauna 1-1 Ok Eh sì Ci ha pure per culato Va pure per culo Ha fatto così Così Ma Ci ha pure per culato Vabbè Secondo eliminato Morfeo sarà battuta Serve il Matrix Morfeo Sempre Sempre il Matrix Inter 0-1 Vabbò Morfeos Vai Morfeos Vai Morfeos 1-1 Dai 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 Preso Ed è una valida E che è una valida No non c'è andata niente Ti fa eliminare il cretino Meno male Meno male Meno male che non l'ha passata direttamente alla seconda base Se l'ha dato direttamente alla seconda base L'ha eliminata Proprio tranquillo sereno Vabbè Comunque E faccia fa un turno di battuta Mi fa Un turno di lancio in più fa Bene 1-0 Dai 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 Comunque lui già fa un po' stacco Fa un po' stacco Allora Pre Niente Fall Fall 1-1 Ok Calma Ball 2-1 Ok Infatti Secondo me fa breve Il prossimo inning Di fenomeno Lo cambiano Dentro il prossimo inning E che pascoli E che pascoli E che non l'ha preso Non l'ha preso Vabbè 2-2 Ok E anche stavolta Niente punti E anche stavolta Nessun punto Niente Andiamo Dritti così Non Non Allora Zack Ti prego Zack Ti prego Non cedere adesso Ok 0-1 Poi Un change up Qua Questo è molto attendista Allora Sinker Sinker Ma questo era Era strike Maledetto Era strike Maledetto Vabbè Change up No Ragazzi Non è qui No Cacciato Ciaffola Ciaffola Ok 3-2 E Tempo centrale Vabbè Dai E Fa Il saltello Olio cuore Invece di fare il saltello Potevi sbrigarti A fare il passaggio Olio cuore Orca miseria 1-1 Io quando vedo certe cose Mi scoraggio Perché vedo che Loro fanno i punti Loro fanno i punti E noi Ci rischiamo perlomeno di fare punti Noi no Noi No Noi no Noi no Porca miseria Allora stiamo Noi Noi Diamo l'impressione Che Che lo subiamo Da un momento All'altro E punto Il briganti E fai i passettini Passettini Senza i passettini Lo elimina Ma quella 1 Di velocità Senza i passettini Lo elimina Pezzo di deficiente 0-1 Allora Change up Avanti Benissimo 0-2 Sinker Dai Vai 1 E 2 Oh Oh Chiuso l'inning Come on Iniziamo Vabbè 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 Jack Vedi che puoi fare Non lo so E Niente Prima eliminato Proprio sereno Tranquillo Me ne immaginavo Me ne immaginavo Onestamente Vabbè Prima eliminato Oh Turner Ricomincia il giro Turner Turner E Dai che è valida Dai che è valida Fermatini Dove sei Fermatini Dove sei Ok Bravo Turner Bene Adesso Dai Robles Vedete Corretto fa Non lo so Mi sembrava Molto più Bolle Molto più In basso Mi sembrava Però bollo Va bene Guardi 1-0 Dai 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 E la Ma Vieni Vieni Ah Robles Robles Sì 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 Allora Potresti stare Un po' più vicino Alla Per favore Salvo Salvo Grande 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 E' rubato la base Benissimo Ora 2-1 2-1 Era Ball Era Ball 2-2 Va bene Calma 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 Presa E Ne ha prendato La quella Porca miseria Vado Secondo eliminato E ora C'è Soto 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 Vabbè Vabbè Ok Cominciamo Qua alta Una cutter Per intimidire No Niente E di nuovo Una cutter Non c'ha la veloce C'ha la cutter Per intimidire Ma Non intimidisce Niente Quindi Niente Change up Facciamo un change up Così 1-1 Change up La miseria Ok Facciamo un sinker Ok 2-2 Va bene E io Sto dire Un chaffola 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 Va bene Fa niente Fa niente Ok Allora Io Sinker Basso Non sink Cutter Basso Perfetto Prima Inviare Dai Grande Zack Ora Ora Questa Lugo Questo E questo E il loro Lanciatore Ce la facciamo Io penso di sì Penso che ce la possiamo fare Magari tipo Tre secchi 1-2-3 1-2-3 Eliminato Perfetto No Addirittura La valida Gli abbiamo fatto fare E ovviamente I passettini Ovviamente I passettini I passettini I passettini E' un fatto Farla valida Al nuovo Lanciatore Io Non sono Senza parole Borca Caspita La lanci E Vabbè E Anche Zack Sta Sta Un attimo Cedendo E Prossimo Inning E Eh Eh sì Fatele capriole Fatele Ma vai a fare Vabbè io Sono un attimo Interno Vabbè Vabbè Di nuovo Ok Prendila Serenamente Vai A posto Comunque Secondo Eliminato La direzione È un attimo Più gestibile Prendila Serenamente A posto Terzo Eliminato Niente Finisce il sesto Inning E siamo sempre Zero a zero Io Comunque Un paio di Un paio di persone Al bullpen Ce ne metterei To Durittle Harris Durittle Harris Un paio di persone Al bullpen Ce li metto Allora Vai Dominic Zero a uno Questo sta morendo Letteralmente In teoria Uno a uno E ora Mi sa che Mi sa che Questo è l'ultimo Indie che si fa Questo qua Poi partono i vari Porcello Ecco Diciamo Due a uno Bene Dai Dominic Dai Dominic La miseria Niente Due a due Ok Calma Calma Siamo calmi Tre due Va bene Ok Grazie Basse regalata Ok Bene così Adesso Eric Thames Dai Eric Dai Eric Parla Marmbrando 0-1 0-1 Ok Oh ma porca miseria Ma come cacchio è che non le prendiamo più una 0-2 Primo eliminato E allora fanno il cambio giustamente Entra Rick Porcello Entra il Porcello Entra il Porcello Ah Un po' Uh Bella ma Niente Corta 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 Niente Secondo eliminato Secondo eliminato La vedo Morpheus Morpheus Fammi un miracolo Morpheus Fammi un miracolo Attiva il Matrix Eeeh Va bene No Eeeh Terzo eliminato Anche il settimo inning Lo finiamo senza far punti Eeeh Madre sentita No Eeeh Ok Vabbè Alla Rolli 0-1 Eeeh Un sinker così A vuolo Va bene Eeeh Ok Io Change up Non è Allora E a questo punto Allora vi faccio Sink Vi faccio il sink Vi faccio il sink Oh Forget about this one Bob Bob Bowie And as Mets fans have heard before That ball's out of here What a great feeling right there Allora Now that The third baseman Gimbi Now the national skippers up out of the dugout on his way to the mound And he's gonna motion for his bullpen here That'll do it for the starter tonight Ce la fai Perché ce la fai Ce la fai Ce la fai Ok Prima eliminato Sto punto che hanno fatto è un problema serio Sto punto appena fatto è un problema davvero serio Considerando che noi non abbiamo fatto uno in sette inning Questo è un problema serio Purtroppo sapevamo che sarebbe successo Cutter Cutter Ok Secondo eliminato Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene La vedo bruttissima Adesso Adesso la vedo La vedo brutta adesso Adesso la vedo brutta Adesso la vedo davvero brutta Adesso la vedo davvero brutta Uno due E non andiamo veloce A posto Finito Settimo inning Siamo tutti 1-0 A due inning dalla fine E noi un punto non lo facciamo Manco per sbaglio Gomez Preta Eeeh Niente Loro cambiano di nuovo Eeeh Hit the fire picture E che devo fare? No non posso Non posso Vabbè Chi è questo Betances? Eeeh Questo è un altro che lancia missili Vabbè Ok 0-1 No vabbè Finita raga Finita E' finita ragazzi Questo Con questo Questo non farò mai punti Con questo qua Proprio il crasso di quel lanciatore Che io non riesco a leggere mai nella vita Ecco Vabbè Eeeh Finita Vabbè Eeeh Turner Turner Finisce anche sto inning E stiamo Stiamo sempre sotto 1-0 Cioè l'inning In realtà dobbiamo Ancora lanciare Ecco Dobbiamo ancora Lanciare 1-1 1-1 Cut Eeeh Signori è brutta Signori è brutta Brutta tanto 2-2 Signori è brutta tanto Questo Eeeh Brutta parecchio Brutta parecchio Brutta parecchio Brutta parecchio Curva Sì però No un'altra curva affatto Che cazzo di Bringati un fai passetti Mi passetti Io Senza Sono senza parole Sono veramente Senza parole Sono veramente Ono veramente Senza parole Io che non ho Guarda Che cazzo Ho Niente Non lo Guarda questo Che cacchini Eeeh Eeeh Ciao Ciao Guarda quello Dicevitore Doi minchia Sei E cacchio Stare facendo Tutto Eeeh Eeeh Finita Ragazzi Eeeh Finita Ma ha finito Tutto Finito Tutto Ragazzi Non vinciamo Neanche con questi Non vedo Dai Che cazzo Sbaglio Sbaglio pure i tasti Eeeh E' finita E' finita Ma è finita Anche qualsiasi Possibilità Di Di E' finita Anche qualsiasi Possibilità Di Dai che Dai Brigati Testa Di Testa di Penso Anche qualsiasi Possibilità Di 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 La wildcard Ragazzi Eeeh Io ho la Conti Finché la matematica Non ci condanna Continua Ma Ragazzi Io Penso Penso Sia O O O O Sia Finita Ogni Ogni Speranza Di Ogni Speranza In merito A Per favore Che cosa Che cosa è infield Non ho capito Comunque Secondo E' Minato Comunque Già 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 Metà Cosa E' Già Già Oh Scusa Ma Ha rimbalzato Fuori Ma Ha rimbalzato Fuori Ma che cazzo Stati dicendo Ha rimbalzato Fuori E' una foul Vabbè Dove I toni Svaniscono Questa Vabbè Forse Secondo Eliminato Terzo Vabbè E' Finita Ragazzi E' Finita E' Finita Ma anche La questione De qualificazione Finita La facciamo più Ragazzi Se non Vinciamo Questa Questa Per sperare Questa Andava vinta A tutti i costi Per sperare Questa E' La prossima Già Il fatto Abbiamo perso Questa Già Sicuro Perché Perché I Rezzi Sissinnati Hanno Un calendario Che definire morbido E dire Un eufemismo Vabbè 1-1 Eh Vabbè Giochiamo Fica matematica Non ci contando La giochiamo Ma ragazzi Sappiamo C'è Entrate Con me Nell'ordine L'idea Che Sti playoff Non ci arriviamo Non ci arriviamo Sti playoff C'è Un calendario Che è troppo Favorevole Rispetto al nostro Sotto Però No 0-1 Vabbè Presa Vabbè E' una valida Tanto può servire Fido Basi Raga Dovrei fare Tre punti Adesso Solo per pareggiarla Dovrei fare Tre punti Ora Ora Impossibile Non possiamo Farcela mai Dominic 1-0 E la squadra Ha ceduto Ha ceduto 2-0 2-0 Abbiamo fatto Quello che potevamo Signore 2-0 Valunga La prende Al volo Quello Vabbè Va boh Secondo Eliminato Hake Thames Hake Thames Meno male che non Mi ha preso il tasto Nella Della battuta Vabbè 1-0 Battuta Manicosa Foul 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 1-1 2-1 2-1 Vabbè 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 Presa Era per me Vabbè C'è finito Raga Addio Sogno di Doria Ragazzi Credo Allora Diciamo Non è Ancora Matematicamente Certo Ma Possiamo Letteralmente Salutare Ogni Speranza E qualificazione Finché la matematica Non ci condanna Ce la giochiamo Ma Rassegniamoci All'idea Che Non Rassegniamoci All'idea Che non Li prendiamo O Sinsignati Sinsignati Ha vinto Di nuovo Con Chicago Ragazzi No Ragazzi Noi perdiamo Col nostro avversario Più scarso E loro vincono Con l'unico avversario Forte Che gli è rimasto Ragazzi Non Vabbè Finché la matematica Non ci condanna Insistiamo Ma Non c'è speranza Nel tuo Questo è un saluto Di quanti voi Nella prossima Parla Parla